Ieri una pasquetta che si è trasformata in una giornata di dolore, mentre era a pesca con il figlio, vicino a Macchie da Sole, comune di Valle Castellana, a confine tra Marche e Abruzzo, il caposquadra dei vigili del fuoco di Teramo, Domenico Ferracatena, 57 anni, di Guzzano di Campli, è deceduto improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. Imediati soccorsi, sia dei colleghi di Teramo, ma anche quelli di Ascoli Piceno, dove il 57enne è stato portato con un elicottero proveniente da Pescara. Nonostante la celerità dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Dopo essere stato accolto dai colleghi di Ascoli, è stato portato all'obitorio dell'ospedale Mazzoni. Giovedì alle 14, i funerali a Campovalano. I colleghi sono rimasti attoniti per la perdita di un professionista, ma soprattutto di un amico. Domenico Ferracatena, un amico, un collega, un coetaneo. Di Domenico sicuramente ricorderemo la gioia, la serietà, la professionalità. Ecco, questi sono i valori che credo che Domenico abbia lasciato ad ognuno di noi. Era di Campli il vigile del fuoco che purtroppo ieri è deceduto a Valle Castellana. Lei lo conosceva, qual è il suo ricordo? Sì, è una bravissima persona, sempre disponibile col sorriso, molto impegnato anche nell'attività sociale del territorio, molto appassionato di caccia, di montagna. Ed è stata ieri una notizia bruttissima per la comunità di Campli quando abbiamo saputo dell'accaduto. Era in presenza con il figlio che era tornato da Rimini. Io mi sento a nome di tutta la comunità di rivolgere un grande abbraccio a lui e a tutta la famiglia che ieri ha avuto questo grande dolore. Era anche un grande professionista, come ha detto, ma lo ricordiamo tutti, appunto ai vigili del fuoco. Anche la comunità dei vigili del fuoco si è stretta appunto alla comunità di Campli. Insieme appunto ricordate questo amico e questo professionista. Sì, è un caporeparto. Lo ricordo più volte in azione, non solo nel territorio di Campli, ma in tutta la provincia. E ieri ho sentito alcuni di loro che erano veramente addolorati per questa notizia che non avremmo mai voluto sapere.